Se avete seguito il tutorial precedente, avrete installato quindi il boilerplate che vi permette di utilizzare Webpack con S6 e React. Analizziamo velocemente il progetto. È composto da un pack a JSON che ne definisce tutte le dipendenze, quelle che avete effettivamente installato con npm install. Poi avete un index HTML che rappresenta il template della vostra pagina web e che include un tag script bundle.js che verrà generato da Webpack, ma lo vedremo in un tutorial successivo. Dopodiché avete le configurazioni di Webpack per la produzione, quindi la fase di sviluppo, scusate il dev per la fase di sviluppo, e per la produzione, quindi quando andrete ovviamente online. E anche questi ne analizzeremo in un video successivo. Avete poi un server Node.js che serve per far girare la vostra demo e una serie di altre cose relative a Babel e altre cosine che vedremo comunque in video successivi. Andiamo sul codice. Il codice è innanzitutto di partenza e in index.js. Questo file importa semplicemente React con l'import di S6 e importiamo il componente app che si trova appunto nel file app.js. È sufficiente scrivere app, si può mettere l'estensione JS. Dopodiché effettuiamo il mount, praticamente, del componente app all'interno del nodo root. Il nodo root si trova nel nostro index HTML. Eccolo qua. Qui verrà montata la vostra web application. Ok, torniamo in index. Abbiamo visto che qui utilizziamo app, quindi apriamo app.js. Questo app.js è composto in realtà da due componenti. Il componente app e il componente counter. Questo componente counter avrebbe avuto più senso se fosse creato in un file counter.js, ma al momento va bene così. Questo nostro app.js non fa nient'altro che definire una render function, che anche questa verrà descritta in seguito. Al momento sappiate che la render function viene eseguita ogni qualvolta una proprietà o lo stato del componente cambia. Cose che, concetti che ancora non sapete, però, insomma, sappiate che questa funzione viene eseguita più volte. Ogni qualvolta c'è un aggiornamento in sostanza di alcuni elementi. In particolar modo, in questo caso, non verrà chiamata solo una prima volta, perché app viene invocata all'inizio, quando viene montata, appunto, nell'elemento root del vostro index. Questa render function non fa nient'altro che utilizzare due componenti, un componente counter, due volte, passando il parametro increment di 1, quindi color nice. Infatti vediamo che qui abbiamo un incremento di 1, e quindi 147, 48, eccetera, mentre qui va a step di 5 e il colore è anche differente. Ok, il nostro componente counter ha un costruttore, nel quale definiamo semplicemente uno stato, quindi un oggetto popolato da una proprietà counter a 0, inizialmente definiamo un setInterval. Viene usata l'arrow function, in questo caso, che è una funzionalità specifica di S6, ma avreste potuto scriverla anche in modo tradizionale, con S5. Quindi ogni secondo viene invocato. Ogni secondo non facciamo nient'altro che modificare il nostro stato con setState, e andiamo ad aggiornare il nostro counter, e all'unmount del componente, quindi qualora questa vista dovesse perdere il focus, dovesse essere, diciamo, distrutto il componente, e via dicendo, andiamo a ripulire il counter, l'intervallo che altrimenti rimarrebbe attivo, e ovviamente non è corretto. Ok, il trick di tutto questo è che quando chiamiamo setState, e andiamo a modificare una proprietà dello state di un componente, la render function del componente stesso viene invocata automaticamente, e quindi di conseguenza viene aggiornata la view, perché in questa view abbiamo un semplice H1, che rappresenta la nostra label, il cui style, quindi, viene dinamicamente popolato con la proprietà color che abbiamo passato, attraverso l'oggetto props. In sostanza il componente, ogni volta, può accettare n attributi, in sostanza, e questi attributi verranno poi acquisiti dal componente attraverso this.props.nome dell'attributo. Quindi qui abbiamo passato il colore nice e supernice, che vengono attribuiti all'H1. Cosa sono questi nice e supernice? Sono due variabili importate attraverso ES6 da un modulo colors, che è un semplicissimo modulo che esporta due costanti, nice e supernice, con dei valori esadecimali. Qui abbiamo i valori in stringa, ma comunque potreste metterli anche in esadecimale. Ok, quindi, dopo aver definito il colore, prendiamo la label counter, che vedete qui, l'increment, quindi il valore di incremento, che abbiamo visto che è 1 e 5, e lo evidenziamo, e dopo il valore aggiornato nel counter che abbiamo settato in precedenza, in questo tick. Quindi a ogni intervallo questo counter assumerà un valore aggiornato. Nel caso in cui, vi faccio una torna a cosa, nel caso in cui ci sia un errore nel vostro codice, per esempio questo, anzi, facciamo, eccolo qua, questo boilerplate è molto interessante perché l'errore vi verrà visualizzato direttamente nel browser e non sarà quindi necessario aprire, per esempio, la vostra console dove chiaramente l'errore è sempre visibile, ma potrete vederlo direttamente nel browser. Per il momento è tutto, i prossimi step vedremo come andare a lavorare con Webpack e andare a creare dei componenti custom in React. e anche per il momento è tutto,